Fantastico, una barba da Babbo Natale. Quest'anno ho avuto la grande opportunità di fare un Babbo Natale che non avevo mai, tutta la mia vita, anche con i miei figli, travestirmi da Babbo Natale. È stata un'esperienza meravigliosa perché è stata veloce, non siamo stati beccati dal bambino, perché i bambini sono molto intelligenti. L'altro giorno un cliente mi diceva che il suo bambino aveva identificato nell'anello, come questo per esempio, del papà e gli ha fatto la battuta ma quello è l'anello di papà e quindi tutta questa favola, queste emozioni di Natale. A Tenerife non c'è Babbo Natale, c'è i remaggi, ma vi garantisco, i remaggi sono bellissimi nel momento che si entra nella parte dei doni che portano ai bambini e quindi ogni paese ha le sue tradizioni. Quindi oggi mi accingo a fare questa quarta puntata di Emozioni a Air Station. abbiamo qualche persona che comincia a leggere il libro che poi nel libro ci sono solamente dei consigli, un atteggiamento per rivedersi, è uno spunto per iniziare da qualche parte. è una cosa bellissima che per tutte quelle persone che avranno l'opportunità di fare un servizio insieme a me di allungamento o infoltimento di capelli, il libro lo regalerò alla persona per seguirla anche dopo l'allungamento di capelli. e quindi siamo a fine anno, ci avvicina con tutti i propositi, che cosa faremo il prossimo anno, faremo sempre di più. Beh, io già ho scritto un sacco di letterine a Babbo Natale, non me le porterà subito, ci vorrà un pochino di tempo, però io ci credo ancora a Babbo Natale. Allora, questa barba durerà pochissimo, la prossima settimana a gennaio mi faranno qualche foto, e poi la toglieremo e ritorneremo al pizzetto giovanile, perché quello che volevo, il mio intento, era dimostrare più anni per fare questo personaggio Babbo Natale, l'altro giorno ho visto un bellissimo Babbo Natale interpretato da De Sica, è fantastico e mi sono fatto un sacco di risate a vedere un film di Natale, pieno, pieno, pieno di emozioni, e quindi ci stiamo preparando per tutti gli eventi. Abbiamo la scuola di formazione, a gennaio rinizieremo a fare formazione per i parrucchieri appassionati di allungamento di capelli, quelli che non sono appassionati, lasciamoli stare, non ci interessa, non voglio fare polemiche, però io credo che non è che... è come un parrucchieri che dice non imparare a tagliare i capelli, tanto non ce n'hai bisogno, se hai fatto le messe in pieghe tutta la vita, continuerai a fare messe in pieghe tutta la vita. e come al solito io queste dirette qua le ho improvviso nei momenti di calma, adesso abbiamo un pochino di calma all'ora di pranzo, sono le due, e poi pubblicherò questi miei pensieri della felicità e delle emozioni che sta dietro, nel mio caso, allungamento di capelli, però va miscelata con le emozioni di un anno passato, non ci siamo fatti mancare proprio nulla, però avremo l'opportunità di rifarci, a Roma si dice così, avremo l'opportunità di rifarci l'importante e non mollare, non mollare che cosa significa? ci dobbiamo sempre automotivare, se non c'è nessuno che ci aiuta a automotivarci, ci possiamo motivare da soli, e come ci motiviamo da soli? questa è una mia domanda, io lo so perché io ogni mattina, quando mi alzo, punto i piedi, e faccio 1, 2, rinizio da capo, ogni mattina se rinizio da capo, e vi garantisco funziona, solamente battere i piedi, senza altro fare altre cose, per iniziare questo basta e avanza, è la consapevolezza che vuoi fare un cambio nella tua vita. Bene, sei minuti, io credo che la mia ghecchierata sia di dovere per il fine anno, auguro a tutte le persone che conosco, a tutte le clienti che mi stimano, anche ai nemici, agli invidiosi, ce ne sono tantissimi invidiosi, però è anche vero che sono le manifestazioni della vita, quindi, se abbiamo sempre persone che non ci donano qualcosa in più, possiamo anche abbandonarli, perché, come dice Daniele di Benedetti, noi siamo l'essenza di cinque persone che stanno più vicino, se c'è qualcosa che non va, le devi allontanare qualcuno e fare avvicinare qualcun altro, e questo potrebbe essere interessante per diventare architetti di noi stessi per il 2023, con tutti gli auspici di riuscire a migliorarsi personalmente per poi raggiungere il desiderio personale. Noi del gruppo partiamo dai capelli e quello che ci compete e da questo facciamo un percorso. Tante persone mi hanno chiesto ma c'è un gruppo per emozioni e estescio? Ci stiamo pensando, ci sto pensando, perché poi sono io quello che decide. Adesso, pian piano che creeremo dei lettori del libro sicuramente c'è bisogno di approfondire o con le persone che potrebbero in vivo farci una chiacchierata insieme, ma anche vero che per fare un cambio bisogna allenarsi e allenarsi tutti i giorni e un gruppo potrebbe essere interessante da costruire insieme a voi con questa base di queste informazioni che cosa sono i capelli e quello che è stato nell'antichità ma che tutt'ora è ancora valido perché, ripeto sempre, i fenomeni rimangono gli stessi, cambiano le epoche e cambiano i comportamenti un po' distratti, meno distratti, ma poi quello sta a noi se qualcosa ci dà un beneficio per il miglioramento personale. E quindi, mi sto dilungando, mi piace parlare, mi piace parlare in video, perché questo mi fa sentire bene e se ho qualcosa da dire, la posso dire qui, di fronte a me, non ho nessun capo, sono un capo di me stesso e quindi l'altro giorno sul canale YouTube che ho varie playliste, ho anche la playlist di Tenerife, sette anni a Tenerife, sto riguardando dei spot vecchi, antichi e quindi ho trovato uno su la barba, come si colora la barba, la nuova moda Tenerife che spopola. E quindi è di un minuto, potete andarlo a vedere nei shot, quelli piccolini che possono essere divertenti. E mi ha scritto una signorina, non so di che nazione, perché era illegibile come nome, dicendomi che lei stava in diretta a Tenerife, a Las America, e di queste barbe colorate, questo è un video di risposta a lei, sta seguendo il canale, che quel video ha qualche anno, ma avrà sei, sette anni, e nell'epoca avevamo creato un po' di movimento con delle barbe colorate. Se poi seguirete il video, lo potete trovare in una delle playlist è il Calori con la barba colorata scura e in effetti mi ringiovanisce tantissimo. Ma questo adesso, quando andremo a ritogliere questa barba che ci è servita per qualche cosa, perché delle volte o far crescere i capelli o far crescere la barba, può servire a qualche cosa. Ma poi la cosa bellissima che non ho mai sperimentato, per l'uomo che significato ha la barba? È veramente un bezzo, come la donna quando gli faccio cadere un capello davanti e gli dico mi raccomando, quando ti relazioni con il tuo ambiente, se vuoi sedurre, fai cadere una ciocca così da solo, che è molto carino, molto bello, perché si diventa più affascinanti. e l'uomo con la barba potrebbe essere più affascinante pur avendo una barba bianca. Ma questa è una domanda che faccio a voi. Per quelli che hanno seguito tutto quanto il video, fino alla fine, sotto la descrizione, potete scrivere che cosa ne pensate anche della barba degli uomini, perché il prolungamento dei capelli, che è il prolungamento dell'anima, può essere anche un prolungamento di barba. Non ci avevo mai pensato, però può essere da farci una ricerca e vedere se le stesse caratteristiche di quel volume nello spazio che ci aiuta a difenderci, gonfiamo i peli, gonfiamo la barba, uguale. Bene. Allora, concludendo, buon anno a tutti quanti, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo anno e scusatemi, 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 ma mi sento molto felice e vi voglio bene a tutti quanti. Ciao.